25esimo congresso provinciale dell'ACLI dal titolo Niente Paura. Ecco, siamo con Monsignor Caliandro dell'Acidiocesi di Brindisi Ostuni. Allora, Monsignor, volevo chiedere un po', ecco, il titolo Niente Paura innanzitutto, quindi è un chiaro riferimento anche al Non Abbiate Paura di Papa Voitiva. È proprio anche il proclamma suo, non abbiate paura, spalancate le porte a Cristo. E quindi l'inizio del suo pontificato è stata questa impronta ad assumersi la responsabilità dinanzi alla storia da parte della Chiesa. E quindi è bello questo riferimento a quell'inizio. Noi ci troviamo in una situazione in cui sono impellenti tanti cambiamenti, tante problematiche a livello mondiale, a livello di ricerca, a livello di strutture sociali e quindi più grande è la responsabilità e uno si sente un pochettino a disagio dinanzi a tutti questi impegni. Però questo riferimento a non avere paura perché l'aiuto del Signore, la grazia non ci smaccherà, ecco la bellezza della matrice cristiana che hanno le atli. Il riferimento è alla sorgente che ci rende coraggiosi, che ci rende forti dinanzi ai problemi che noi dobbiamo affrontare. Non siamo soli perché il Signore ci ha preparato il suo dono, questa linfa, questa forza. E quindi la parola che apre contro la paura è la parola grazia. Tutto ci è dato se noi siamo collegati al Signore nell'amore e nella fede.